Gli SMS solidali hanno già raccolto 28 milioni di euro, soldi che hanno donato i cittadini italiani come aiuto umanitario per la ricostruzione di abitazioni. Ma non sono mancate le polemiche. Abbiamo chiesto ai cittadini romani cosa pensano al riguardo. Sargi solo l'Italia, le persone che stanno lavorando, è una bella cosa. Stanno lì lavorando per le persone che ne hanno bisogno, quando invece c'è chi se ne frega di quelle persone. Io vorrei dire qualcosa a chi li comanda queste persone. È fondamentale ricostruire, se no i soldi non possono servire a nulla. È nulla di dare dei soldi a delle persone se poi non hanno un luogo dove vivere o dove stare. Quindi ricostruire con criteri ovviamente adeguati, antisismici, in un modo intelligente, cosa che evidentemente non è mai stato fatto fino adesso. E poi ovviamente aiutare i cittadini e la popolazione in tutti i modi, a 360 gradi. Purtroppo la polemica qua in Italia è una cosa che la sentiamo e la sentiremo. E l'Italia è fatta così.